Un'azione bella con Cusa Lagrande perché hai veramente fatto un gol da attaccante. Sì, ci tenevo tanto, soprattutto è stato un gol importante perché ha un po' chiuso la partita, era ancora un po' in bilico, il gol ci ha messo la partita in discesa, gli ha fatto una buona partita e è stata una bella vittoria. Sei tornato in una piazza che conosci e ti stai rimettendo al passo che sai perché ti conosciamo. Sì, la condizione non è ancora quella ottimale, però un po' alla volta sto lavorando per cercare di recuperare il divario con gli altri, un po' alla volta raggiungerò anche io la condizione migliore. Però questo gol ti aiuta anche nel morale per andare avanti? Sì, è un gol che ha aiutato a vincere la partita più che il morale mio, quello è l'importante. Complimenti Navide. Grazie. Grazie.